musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono Xyuder e ragazzi oggi parliamo ovviamente di tutto ciò che riguarda la patch 7.1 parte 3 anche oggi ragazzi in collaborazione con gli amici di fortnite italy ragazzi gruppo telegram che vi invito a seguire il numero uno in italia ragazzi per le informazioni su fortnite trovate in descrizione il link oggi ragazzi la patch è davvero molto molto interessante ci sono dei cambiamenti importanti ci sono delle aggiunte interessanti insomma un sacco di roba che sicuramente vi farà piacere sapere quindi ragazzi ciancio le bande bando alle ciance mentre voi vi iscrivete al canale ovviamente ragazzi e non ve lo dimenticate noi passiamo subito alla patch e la campanella attivatela parliamo subito ragazzi ovviamente del nuovo fucile di precisione silenziato l'avevamo visto nei video precedenti anche le statistiche è ufficiale è arrivato oggi ragazzi e ci dice un po di potenza in cambio di un bel po di furtività grazie al fucile di precisione silenziato gettati nella mischia e sorprendi i nemici molto molto interessante ragazzi questa nuova arma che ci permette appunto di colpire dalla lunga distanza senza farci sentire abbiamo anche ragazzi delle statistiche ufficiali anche se ve le avevo già fatte vedere si può trovare nelle due rarità epica e leggendaria come danno fa 100 nella versione epica al corpo e 105 nella versione leggendaria ovviamente è un fucile che va a colpo singolo come è un bolt action silenziato in poche parole quindi ragazzi fatemi sapere qua sotto se lo avete già provato e cosa ne pensate sono curioso di sapere cosa ne pensate andiamo avanti ragazzi e parliamo invece dell'addio alla sei colpi ragazzi arma entrata nella scorsa season durante la durante l'evento quello dei mostri adesso non ricordo il nome corretto ma mandano in pensione ragazzi la sei colpi e non solo mandato in pensione anche il vampa fucile ragazzi non sarà più possibile trovarlo in nessuna delle rarità e quindi rimane il famas l'unica arma a raffica disponibile secondo me hanno fatto una bella decisione con l'eliminazione del vampa fucile ma andiamo avanti ragazzi perché un'altra novità interessantissima è dedicata agli aeroplani all'x4 ragazzi hanno fatto delle dei buff praticamente del dei bilanciamenti interessanti da adesso hanno ridotto del 70 per cento la respinta ai giocatori quindi quando ci viene addosso un aeroplano non verremo scaraventati in aria come se fossimo dei birilli hanno anche aumentato il danno durante la collisione dello stormwing quindi dell'aereo alle strutture del 50 per cento quindi fa molto più male trapassare le strutture con l'aereo plano e tra l'altro il danno da impatto durante l'accelerazione quindi quando si utilizza il turbo è invece stato ridotto del dal 50 per cento al 25 per cento quindi ragazzi attenzione a quando lo utilizzate con il turbo hanno aumentato ragazzi quindi hanno diminuito la precisione del mitragliatore quindi è molto più difficile colpire adesso i bersagli soprattutto quelli a terra piccolini addirittura del 75 per cento e hanno aumentato hanno ridotto la possibilità di generazione degli aeroplani dal 100 per cento all'80 per cento quindi non è detto che in ogni posto dove sappiamo ci siano gli aeroplani possiamo ritrovarli ragazzi andiamo avanti ancora e parliamo di un'altra novità interessantissima che è ovviamente l'arrivo del nuovo quartiere si vede ragazzi che quello che vi ho fatto vedere ieri sarà il prossimo questo ragazzi è molto molto interessante davvero fighissimo si chiama l'ha creato kojak number two non gli ha dato un nome o almeno non mi risulta ce ne sia uno ma è una mini arena dove si rimbalza in tutte le parti perché è ricca di piattaforme di bouncer in poche parole e anche di armi e di ceste assolutamente ragazzi una novità molto gradita almeno da parte mia fateci un salto al nuovo quartiere perché merita davvero tantissimo e andiamo avanti ragazzi parlando anche di salva al mondo ci sono degli aggiunte anche su save the world è il nuovo piccolo aiutante di babbo natale fa veramente malissimo aiuta babbo natale a consegnare i regali con qualche bella esplosione quindi ragazzi è disponibile nel negozio settimanale e abbiamo anche il fucile scoppiettatore che è sempre disponibile ottenendolo e lo potremo ottenere durante le sfide di fortnite gli ultimi due aggiornamenti che vi volevo dire riguardano le dinamiti ragazzi hanno diminuito la possibilità di trovare le dinamiti nei ceste e in giro e hanno anche fatto una modifica allo stereo portatile hanno ridotto del 33 per cento la possibilità di trovarlo quindi è più difficile diminuita anche la salute dello stereo stesso da 600 a 400 e hanno ridotto la durata dell'utilizzo da 25 secondi a 18 secondi beh ragazzi questa era tutta la patch numero 3 da 7.10 spero che vi sia piaciuta mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo in live ciao ciao ciao